Non scherzo, lo so, non è una battuta per lui. Ciao Fabio, buonasera a tutti. I parole vanno al limite. Allora, oggi c'è stato questo comunicato del Presidente, è molto lungo, ma insomma è un ringraziamento anche alla città di Arezzo e ai veri tifosi, a tutti quelli che hanno collaborato ovviamente a questo risultato, ovviamente tra i ringraziati con particolare sottolineatura c'è proprio Ezzelino Capuano, soprattutto anche nei momenti più difficili in cui si è costruito questo percorso. Ma io oggi sono un uomo felice perché finalmente la città di Arezzo apprezza Ferretti, almeno sono andato un pochettino sui siti e vedo apprezzamenti di grande spessore verso un uomo che per due anni si è dedicato a anima e corpo all'Arezzo, a volte è stato bistrattato o insulti, però fa parte del calcio di coloro i quali prendono una società e oggi c'è stato il giusto tributo verso un uomo che ha speso tanto sotto il punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista umano. E quindi sono molto felice che ciò sia accaduto. Quindi sono contento. Sono contento che la gente di Arezzo incominci ad apprezzare questo uomo che comunque è stato il simbolo della rinascita, senza ombre di dubbio, del calcio aretino. Ecco, ricordando poi quei giorni di quest'estate, sembra tutto un altro mondo rispetto a dove tutto era partito, dal primo ritiro, quella conferenza con i tifosi. Sembra un sogno, sembra di vivere una favola. Io ricordo la conferenza col battaglione San Marco dietro la curva, no? Non sembrava una conferenza di una squadra, di un proprietario di calcio e di una città di grandi tradizioni e di nobile cultura quale Arezzo. E oggi si vive un momento diverso, grazie ai sacrifici fatti da parte del Presidente e il lavoro disumano che è stato portato avanti da due gruppi, il gruppo tecnico, che ho avuto il piacere e l'onore di guidare, e il gruppo dell'ufficio, lo chiamo io, che ha fatto un lavoro che nessuno di noi, o meglio di voi, riesce ad immaginare. Se l'Arezzo è riuscito in un miracolo calcistico, lo si deve soprattutto, oltre agli uomini di campo agli uomini di ufficio, perché, lo dico con illimitato orgoglio, l'Arezzo ha conquistato la Coppa Italia Team e ha ipotecato la salvezza tante giornate prima. Io ritengo che quando abbiamo vinto a Lumezzane eravamo di fatto salvi, no? Poi magari ci siamo anche un po' così, fa parte del gioco, dismessi da quella che era la nostra fase agonistica nell'affrontare le gare, ma fa parte anche dell'incoscio dell'essere umano, perché comunque un calciatore è un essere umano, è una macchina, è normale che con orgoglio dico che la gestione dell'Arezzo Calcio è la meno gravosa, vale a dire la più bassa dell'intera Lega Pro. E quindi lo dico con orgoglio straillimitato, abbiamo fatto delle scelte che all'inizio erano impopolari, il fatto di non fare contratti pluriennali, di non rinnovare i calciatori fino a quando finisse il campionato, abbiamo agito con il convincimento delle nostre idee, portando avanti una filosofia che a volte poteva essere impopolare e oggi con orgoglio e con soddisfazione è illimitata oltre al risultato del campo, possiamo gridare a viva voce che l'Arezzo ha la quantità economica, se è un termine accettabile, più bassa di tutte le 60 squadre della Lega Pro. Roberto, tra l'altro c'è stata la vostra assemblea nei giorni scorsi, per fortuna il comitato andrà avanti, ecco quello che diceva il mister, sicuramente oltre al giudizio sul presidente Ferretti, direi che si è ricreato oltre a una categoria almeno un po' dignitosa per la storia dell'Arezzo, si è creato però anche un clima molto positivo attorno alla squadra. Sì, assolutamente, il clima è assolutamente positivo, sta tornando l'entusiasmo, anche se io non mi accontento, credo che la piazza dell'Arezzo può dare tanto di più e spero che magari possa darlo negli anni a venire, perché insomma ecco, io mi ricordo bene che insomma ci sono stati anni con un seguito di pubblico anche maggiore, quindi io mi auguro che piano piano si riesca a riportare allo stadio tanta gente rispetto a quella che già è avvenuta, diciamo abbastanza, perché poi se andiamo a vedere anche le presenze con le altre squadre di C, non è che noi poi siamo messi così male, diciamo che la disaffezione del pubblico allo stadio parte da lontano, quindi non è un problema nostro, ma è un problema un pochino generale, è un problema delle televisioni e tante altre cose che un pochino hanno allontanato, però Arezzo io credo che possa dare tanto di più e quindi mi auguro che si riesca al prossimo anno a portare ancora più gente, a creare ancora più entusiasmo soprattutto anche nei più piccoli a trasmettere quest'amore per la maglia e per la squadra della propria città che è la cosa più importante di tutti. C'è una telefonata? No. Sì Fabio, sono Riccardo. È Riccardino. Ciao. È Riccardino. Ciao mister. Tu sei un veggente. Allora, hai visto c'è il mister qua? Sì, lo sento. Lo senti, ecco, e lo vedi. Volevo fargli una domanda. Vai. Sono contento mister di ieri, anche di ieri sera, guarda, sei un mito. E non è una domanda, è un'affermazione. Sì, ma mi ci trovo bene con voi, anche io a Arezzo TV. Meno male, via. Però la mancia con la crostata Riccardino, c'è la pressione troppo alta. Non sapevo la crostata. Forza mister, sei grande. Faremo un bel campionato il prossimo anno. Vai Riccardino, vai. Ma ciao mister. Ciao, grazie. Ciao mister. Allora, Matteo, domande o valutazioni? Io ovviamente puoi chiedere qualunque cosa, mentre il mister, o poi dica la tua sulla stagione. No, vabbè, partendo da presupposti alla stagione, penso che alla fine quello che è stato scritto ieri, da quei tre striscioni che sono apparsi in curva, vada come vada, comunque è stato un successo. È stata una bella annata, grazie a tutti. Insomma, hanno riassunto in poche parole quello che è stato, insomma, il pensiero di uno stadio intero, di una città intera. No, ovviamente la domanda che mi viene spontanea è quella che riguarda il futuro, no? Sono già iniziati gli incontri con i procuratori. L'idea che si è fatta in testa il mister, ovviamente, sul modulo, penso sia ancora 3-5-1-1, no? Da come si è parlato. E poi, un'altra cosa, ne approfitto, oggi sono stati i primi provini, no? Allo stadio. Non so se hai avuto modo di vedere i giocatori. Io sono sempre presente, anche quando sembra che sono assente, sono presente. Quindi ero allo stadio, avevamo 8-9 osservatori, c'erano i tecnici delle squadre, avevamo il capo degli osservatori. Eravamo ben presenti, qualcosa ho visto anche io. Domattina alle 10 abbiamo la riunione con tutti i tecnici, mi faranno le relazioni e poi decideremo eventualmente qualche giocatore da prendere. L'altra domanda? Io guardavo già il futuro della prima squadra così. Era il discorso, se c'era già stato qualche incontro con qualche procuratore, visto che si era parlato dopo Novara, inizieranno gli incontri. E se l'idea è sempre quella del 3-5-1-1 anche per la prossima stagione? L'idea del 3-5-1-1 è un'idea di base, ma che si può cambiare con estrema tranquillità. Non sono stato mai ancorato ad un solo sistema di gioco. Io mi ricordo che le squadre che giocavano il più bel calcio, la Puteolana, la Nocelina e il Taranto, giocavamo con il tre quarti e le due punte, 4-3-1-2. Poi dopo Sora ho variato il sistema di gioco perché dovevo fare i punti, mi ricordo che a Sora subendrai in una situazione drammatica, la salvai. Di lì ho avuto sempre squadre un pochettino da friggere il pesce con l'acqua minerale e tante volte sono riuscito in imprese titaniche. Per quanto concerne i rinnovi di contratto, abbiamo parlato, cercheremo di parlare con tutti, vedremo cosa ci chiederanno per rimanere, però le idee nostre sono ben chiare. Io ho detto nell'immediatezza del dopogara di ieri, l'ho ribadito stamattino a Radio Gru, lo dico adesso nella trasmissione che ho avuto l'onore di essere vostro ospite, con estrema tranquillità. Dovessi agire col cuore dovrei riconfermarli tutti, siccome col cuore o con i sentimenti non si può fare il calcio, ma né qualsiasi decisione può essere presa, perché io devo dar conto ad una città intera, ma devo dar conto a una proprietà che ha fiducia illimitata verso la mia persona. Quindi le scelte saranno fatte con estrema razionalità, non frutto di improvvisazione, questa squadra non potrà andare nel dimenticatoio, però ritengo e lo ribadisco, anche se a qualcuno potrà dar fastidio, una mia idea, molti di costoro che hanno fatto qualcosa di straordinario, difficilmente ripeteranno questa annata. Io quando fui presentato dal direttore Pagni ebbi a dire, o meglio fece una promessa, tutti i giocatori che prenderò, chi andranno in campo suderanno la maglia, o meglio onoreranno questa maglia, ci sono le registrazioni, e non so come andrà a fidere, ma chiunque andrà in campo onorerà la maglia dell'Arezzo e sputerà a sacco. Penso che è stata una promessa che tanti allenatori fanno, ma che io ho ampiamente mantenuto. Quindi sarà un arezzo molto nuovo rispetto a questo? Ritengo di sì, ritengo di sì, anche perché penso che la rosa va da ringiovanita. Ritengo che quando abbiamo fatto mercato dovevamo prendere quello che in quel momento passava il convento, siamo stati bravi nell'individuare prima gli uomini e poi i giocatori, però il calcio non va fatto assolutissimamente attraverso il sentimento. Ci fermiamo un secondo e torniamo subito. Bentornati, andiamo da Francesco Caremani, ovviamente faccio la tua radiografia di questo successo ammaranto, che cosa ti senti di chiedere al ministro? Più che una radiografia ho una foto, e la foto sono state le corse di Mestre Capuano dalla panchina sotto la curva dopo ogni vittoria o dopo ogni partita con risultato positivo. Oltretutto io quest'anno alcune partite, quando sono venuto allo stadio, diciamo non lavorando nello specifico come giornalista per l'Arezzo, le ho seguite in curva e non ho mai visto l'Arezzo perdere, e quindi mi ero preso quasi una, come dire, da un po' di talismale. Abbonamento obbligatorio, lo pago io, non lo paga l'Arezzo, lo paga Capuano. Partita tipo, lo so, col Pordenone, partita anche complicate che sono finite poi in gloria. Ecco, quella corsa però, questo lo voglio specificare per bene, perché se no spesso ci fraintendiamo, non è solo l'aspetto gioioso e guliardico del Mestre, è il paradigma della stagione dell'Arezzo, cioè Capuano, secondo me, è stata la persona che colago col filo, ha ricuscito anche l'affetto tra la città, i tifosi e la squadra, in un momento difficilissimo. Venivamo da quattro anni di Serie D molto particolari, molto complicati, questo ripescaggio all'ultimo momento, poi vorrei dire che qui ci sono presidenti di Serie A che si lamentano in continuazione, forse nessuno è venuto mai a chiedere scusa qua ad Arezzo su quello che c'è stato fatto senza poi, come dire, ragionarci più di tanto. Il Genoa gli hanno chiuso il mercato in questo momento, io so che è messo come il Parma, nella stessa condizione economica. L'Inter è una squadra i cui debiti sono di proprietà della Goldman Sachs, quindi probabilmente non sanno come fare a mandarle in Europa, naturalmente, perché se quest'anno non va in Europa, probabilmente anche lo stesso IR avrà problemi a mandarle avanti. Quindi a noi, non mi ricordo quanti milioni, oltretutto mi sembra pagati in ritardo, se non sbaglio Roberto aiutami tu, insomma ci hanno trattato come ci hanno trattato. Quindi Capuano è stato veramente... 100 milioni di vecchie lire. 100 milioni di vecchie lire, qui si parla di milioni di euro come noccioline. Quella corsa è il paradigma di una stagione, per me, bella e divertente, rivedere l'Arezzo finalmente tra i professionisti. A Capuano due domande. La prima, usando le sue parole, mister, se anche l'Arezzo ha fritto con l'acqua, minerale. Nel senso che, perché c'è chi dice, appunto, che anche se è stata una squadra un po' raccattata, ma i giocatori erano di categoria, c'è chi dice invece no, i giocatori non erano, come dire, insomma, sono stati messi insieme più dal mister che non dal loro singolo talento. No, questa è molto interessante, molto intelligente. Intanto è prevalso l'uomo al calciatore, su questo non c'è ombra di dubbio. Se la squadra ha fatto bene, in proporzione, io gliel'ho detto ieri a Mario, questa squadra ha fatto meglio della tua squadra quando hai vinto il campionato. Molto, molto meglio. A somma. A somma, sì. Perché è una squadra che parte, che si giocava la terza giornata di campionato, senza preparazione, tutti i giocatori a casa, si è fatto un capolavoro. Un miracolo. Un miracolo che probabilmente né Capuano, né Murigno, né il vecchio Sacchi potranno ripetere. Quindi il merito è dei giocatori senza ombra di dubbio. Se andiamo nell'intrinseco e vediamo la storia recente dei calciatori, si evince purtroppo che sono stati tutti rivalutati e per bravura loro hanno trovato gli stimoli ad Arezzo, perché sette di loro ne venivano da una retrocessione dall'AC2 all'Interregionale, non dall'AC1 all'AC2. Molti giocatori erano fuori rosa con le squadre di appartenenza, quindi non si dica che non erano bravi. Erano poco considerati. Io ho lavorato moltissimo sulle motivazioni e sulle qualità dei giocatori che comunque erano ottime. Su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi io non dico né che era una grande squadra né che era una squadra scarsa. Anzi, il più grande complimento che posso fare ai miei ragazzi, l'ho detto prima, è prevalso l'uomo al valore intrinseco del calciatore. Secondo me questa cosa in campo si è vista, l'attaccamento che i giocatori avevano nei suoi confronti, rispondevano ai comandi dell'allenatore e una squadra, a prescindere appunto da come era stata assemblata inizialmente, tosta nei confronti di qualsiasi avversario. Se non sbaglio è stata anche Arezzo-Novara 0-0, quindi è un pareggio importante. Noi abbiamo... Cioè, non mi resta mai andare sotto in difficoltà. Ma c'è un Novara-Arezzo di otto giorni fa, dove noi abbiamo fatto partita e non meritavamo di perdere contro una squadra che si giocava alla promozione. Poi la partita di ieri era una festa, avevamo una miriade di assenze, senza attaccanti non si può fare calcio, quindi con due top minion la palla tornava di ieri. Seconda domanda? Seconda domanda, velocemente, quest'anno secondo me lei ha fatto manager, proprio all'inglese. Sì, come ho fatto spesso ovunque sono stato. Ecco, quello che volevo sapere, ha fatto sempre così? Ho fatto, io alleno dall'89-90 interrottamente. Sono l'unico allenatore in Italia che per 24 anni non è mai stato fermo, basta andare sull'almanacco, su Wikipeca, quindi, e confrontare. Dovunque sono stato, tranne Taranto, dove c'era il dottor Pieroni, e un attimo voglio rimembrare, nel recetto, tranne quando sono subentrato, poi la squadra l'ho fatta sempre io, chiariamo questo concetto. Ad Arezzo ho fatto tutto. Ad Arezzo ci ho messo il cuore, e forse non sarò nemmeno credibile, ma quando dicevo che Arezzo è un mio giocattolo, di cui oggi, più che mai, ne sono geloso, io mi rivedo quando mio figlio giocava con i giocattoli, e guai se glieli toccava. A me se qualcuno mi tocca, qualsiasi cosa, io devo essere al centro di tutto, è un giocattolo che l'ho visto nascere, che l'ho costruito pian piano, logicamente con la responsabilità illimitata del Presidente, e oggi mi sento questo giocattolo talmente bello, di cui ne sono fiero e orgoglioso, ma talmente geloso. Quello che ho fatto ad Arezzo, ad altre parti non l'ho fatto. Misurare i tornelli, misurare la luce alle 5 della mattina, scappare a Roma, con un motorino, e da piazza Euclide, se non erro, arrivare a Via Po, dovevo essere lì alle 7, con la domanda di ripescaggio nella camicia, e correre, penso che non l'ho mai fatto. Questo però sono stati 2-3 giorni. Ne ho fatte tante, però poi quando giri un poco per la città, oppure ieri l'applauso, quando un intero stadio ti grida il tuo nome, lì non ci sono soldi, non c'è spazio ai sentimenti, non c'è nulla, c'è soltanto l'apoteosi di un uomo che ama questo mestiere e vive per il calcio. Stefano? Innanzitutto credo che tutte queste storie che ti ha raccontato Ezio siano lo spunto per poter fare un libro. Veramente. Io sarebbero farci un cameo, visto il rapporto che ho con Ezio, visto il rapporto che ho con Ezio, perché poi magari, in realtà un pochino più grande. Io ho anche il posto di dire il titolo, Capuano si è fermato ad Avezio. Oppure Capuano corre ancora, visto che è sempre, però è uno spunto sul quale ora nasce come battuta, ma però può essere un motivo di riflessione. Niente, non c'è molto da aggiungere a quello che gli amici hanno già detto, se non che l'annata di quest'anno va presa come un regalo che ci è arrivato e che è una cosa bellissima che è nel calcio. E come capitò, ripeto, il ripescaggio in C2 e la cavalcata di Somma, qui siamo stati fino all'ultimo, perché ci siamo dimenticati una cosa, che Ezio, oltre che tutti i meriti che avete elencato, che sono evidenti, c'è anche quello che si è assunto un'altra grossa responsabilità, quella di aver praticamente trascinato il presidente al ripescaggio, perché alla fine poi quello che ha appigiato più di tutti, che aveva ovviamente l'influenza per farlo, è stato proprio lui, si è assunto una responsabilità, insomma, perché alla terza del campionato, di dire faccio la squadra, faccio tutto, insomma, c'è la rischia di fare una Waterloo, quindi questo non è cosa da poco, perché credeva veramente nel progetto, però questa annata va presa, credo come un'annata magica, da mettere in quel cassetto dei ricordi, come c'è stato nel cassetto dei ricordi l'annata di Angelillo per i più vecchi, l'annata di Somma, le annate di Cosmi, va messa lì, però è giusto il ragionamento, cioè il pragmatismo e la razionalità devono far pensare anche che un conto è costruire una squadra in emergenza, un conto è costruire una squadra con un programma, sono due cose completamente diverse ed è chiaro che sarà sicuramente tutta un'altra storia al prossimo anno. Io credo che in questa piazza dobbiamo essere tutti innanzitutto felici di aver ritrovato il gusto di tornare allo stadio, a tifare Arezzo, perché arrivare al venerdì, pensando che la domenica c'era da vedere l'Arezzo, o il venerdì stesso, arrivare all'inizio della settimana e pensare che domenica c'era la partita, venerdì c'era la partita, è già una sensazione molto piacevole. Credo che però tutti dobbiamo stare molto copiati per terra perché a Arezzo c'è da lavorare veramente tanto, da lavorare tanto perché quest'anno Ezio ha accelerato un processo di ricostruzione grazie alla sua vulcanicità, grazie alla sua dimostrazione reale di attaccamento e di voglia di lavorare perché chi segue l'Arezzo sa perfettamente che lui, nonostante l'Arezzo sia una città piccola, ancora più di metà della città non la conosce perché si è diviso tra sede, campo, campo, sede, poi in giro. E la gente questo l'ha apprezzato perché l'Aretino, come ho spiegato a lui, come ho spiegato anche al dottor De Martino, in quanto l'Aretino è un popolo un po' particolare, può sembrare ed è anche per certi aspetti amorfo, però è un popolo che sa tributare e sa riconoscere. All'inizio di questo campionato, l'estate scorsa, non c'era un Aretino che aveva accettato di buon grado Capuano, io per primo, perché bisogna essere obiettivi leali nella vita, noi se no non siamo tutti con grande scetticismo, però l'Aretino oggi ha adottato Capuano come uno di casa, ma non perché si è salvato, perché ha apprezzato l'uomo, quindi è una città che sa riconosce, allora io dico che bisogna agire con molta oculatezza, ricostruire bene, nel processo di ricostruzione non si devono esimere neanche comunque la città, la società deve programmare, c'è un settore giovanile che è importantissimo, tutti si pensa giustamente da tifosi dopo quest'annata al salto in Serie B, alla categoria della Serie B, però io dico che bisogna cercare di andare un passo alla volta. Io credo e ritengo che Arezzo in primo luogo debba programmare, secondo me, un settore giovanile, perché la storia dimostra che in realtà come Arezzo non possono prescindere da avere un settore giovanile. Credo che questa piazza debba avere come obiettivo principale quello di ricostruire un ambiente dove ogni ragazzo, come ero quando ero un ragazzo io tanti anni fa, deve avere come primo obiettivo della provincia quello di rivestire la maglia dell'Arezzo, cosa che invece oggi si va piuttosto a un altro vivaio, si cerca Empoli, si cerca anche realtà diverse. Deve mantenere assolutamente la categoria e programmare. In questo processo di credibilità, che ci deve essere, la società sicuramente ora varerà a giorni un programma insieme al mister, un programma credibile, un programma serio, e dopo lì a quel punto si peserà anche la voglia degli aretini. Perché per esempio la storia di ieri dimostra una cosa importante, dimostra che c'è uno zoccolo duro di aretini che andrebbe a vedere l'Arezzo giocare anche nell'Arci, dimostra però che c'è un'altra parte di aretini che non capisce probabilmente la portata dell'evento di quest'annata. Perché una giornata come ieri, a 5 Euro, dove c'era da osannare una squadra che è arrivata nella Team Cup, che è arrivata a un risultato incomiabile, perché io dico che chiunque oggi di noi ti dice che avrebbe sognato di arrivare terzo e ultimo, e giocarsi la salvezza a play-out, ma per una logica di realtà dei fatti. Noi non si è mai rischiato un minuto di andare nei play-out, mai un minuto, forse noi avessimo avuto un attaccante che faceva 12 gol, se poteva sperare di arrivare in quell'altra fascia dei play-out. Ieri era la giornata di poter far vedere che questa squadra meritava quello, invece c'erano i soliti. Allora dico, per l'amor di Dio, ok il calcio che conta, ok tutto, però va ricostruito tutto. La società, a Ferretti non gliel'ha ordinato certo il dottore di prendere l'Arezzo, però la presa è stata criticata, secondo me anche giustamente, nei momenti in cui tentennava, ora è stato tributato perché è giusto che sia tributato, però anche la città deve dare la sua risposta, deve dare una mano, non c'è niente da fare, deve dare una mano, deve dare una mano perché se non dà una mano, Ferretti non è Toirre, e mi sembra che anche Toirre di molto chiacchiere, tra parentesi, Ferretti non è il presidente del Real Madrid, è un uomo che probabilmente ha vissuto questa città ai margini, si deve forse far conoscere meglio, probabilmente, perché a volte ha fatto esternazioni che sono giuste, ma poi deve anche capire che il tifoso semplice non sa certe logiche, quindi prende la parte negativa di quelle esternazioni, quindi il rapporto, lui è stato anche su questo, ha spianato un'autostrada alla società, però io dico che la città in questo momento, in tutte le sue componenti, tifosi, imprenditori, giornalisti, deve, nel mantenere ognuno i propri ruoli, perché sono fondamentali i propri ruoli, deve dare una mano, perché se si vuole costruire, si costruisce tutti insieme, se no rimangono chiacchiere. Roberto, sulla città, vogliamo dire qualcosa di cavallo di battaglia. Io condivido assolutamente tutto quello che ha detto Stefano, soprattutto su questa freddezza, tant'è che anche le nostre riflessioni del comitato nascevano proprio da queste considerazioni, nel senso, noi siamo nati nel 2010 e abbiamo fatto tanto, però stentiamo a vedere che ci sia quella scintilla che ci possa far migliorare il nostro lavoro, che è stato sicuramente positivo, ma ci vuole il salto di qualità nelle cose, cioè non si può permettersi di vivacchiare, quindi quest'anno, noi l'abbiamo un pochino visto con, si è un po' intiepidito, dopo le prime partite, quando c'era 3.000 persone, non ce lo dimentichiamo quella torre, quanta gente c'era, ma dopo la cosa deve continuare, soprattutto gente, come ha detto lui Stefano, che noi ci siamo sciroppati tra sferte, che quando partivo mi prendeva il magone, quando tornavo a volte a qualità, perché ci avevo anche perso, cioè in paesi che ignoravo l'esistenza, ora veramente quest'annata me la so goduta, ma veramente io, questa qui è... Il famoso Pian Castagnaio. No, senza nessuno... C'è di peggio, per Pian Castagnaio si mangia bene. Ma no, ma io non ho, voglio chiedere, non ho voluto offendere nella maniera più assoluta, ho semplicemente detto ieri, nell'immediatezza del dopogara, che qualche mese fa abbiamo giocato la Coppa Italia con il Sansepolcro, eravamo pronti ad andare a Pian del Castagnaio, Trestina, e fra qualche mese giocheremo o a Livorno, o a Bologna, o a Perugia. Un'altra cosa. è un dato di fatto. Bene, ci fermiamo un attimo e torniamo su. Noi insieme, sempre con il mister Zilinio Capuano, dicevi prima no del budget, che la che si ha avuto il budget più basso della categoria e ha ottenuto poi questi risultati. Siamo stati bravi. Bravi. Vedo qui che Ferretti nel comunicato rilancia questo sogno chiamato Serie B, con lo stesso budget, con un budget più alto. Il presidente rilancia logicamente il presidente io lo conosco, il presidente se uno lo conosce lo ama, il presidente è una grandissima persona, probabilmente sai tutti coloro che hanno un orgoglio illimitato a volte nella fase di trasmissione del proprio pensiero magari a volte non sono visti in maniera particolarmente positiva. Il presidente con i fatti vuole fare un progetto importante, abbiamo costruito un centro a Castiglion Fiorentino e meno male che l'abbiamo fatto perché al momento non abbiamo campi dove allenarci, stiamo costruendo almeno vogliamo costruire un degno settore giovanile ma non abbiamo le strutture. Il presidente ha detto che fra qualche anno vorrebbe andare in Serie B, è normale che noi lo faremo senza fare spese folli con tante idee e con tanto lavoro. È l'esternazione di un sentimento che il presidente prova in questo momento è un suo desiderio e io farò di tutto fino all'inverosimile affinché questo accada. I due dilemmi erano squadra esperta o squadra con i giovani e il discorso del girone premesso che l'Arezzo potrebbe aspettare una prevenza. No, ma io non ho mai detto che volevo andare al girone nord come poi ho sentito. Io penso di parlare un italiano abbastanza tranquillo e anche un discreto lessico non ho fatto qualche errore particolare. Io ho detto che se dovessimo fare il girone del nord ci costa molto molto di più sia per quanto concerne le trasferte che sono il doppio e sia per mancanza di incassi. Lo dovessimo fare non avremo nessun problema. Il nostro girone voglio dire geografico è il girone B quindi è il girone che ci spetta dove l'agonismo sicuramente con grande schiettezza lo dico con grande schiettezza perché non sono un ipocrita è molto più elevato al tasso tecnico del girone A ma io penso che qualcuno magari pensava che avessimo paura del fare del girone B noi non abbiamo paura nemmeno di andare a giocare a Beirut e l'abbiamo dimostrato quindi qualsiasi sia il girone noi cercheremo di fare una squadra altamente competitiva Giovane o no? Sicuramente vogliamo ringiovanire questa squadra su questo non c'è ombra di dubbio ma tantomeno però giocheremo con i bambini su questo non c'è ombra di dubbio Matteo qui partiamo no semmai l'unica cosa è il discorso la serie B anche perché qualcuno ci ha cavalcato sopra secondo me potrebbe essere no ma noi non dobbiamo fare i voli pindarici altrimenti proprio questo diamo al popolo delle attese che poi può essere un boomerang in negativo ma infatti era proprio questo il discorso noi abbiamo fatto un grande campionato che vogliamo migliorare questa società non farà mai spese folli lo dico io che sono il responsabile dell'area tecnica agiremo con la mente con tranquillità con molte idee con grande professionale sperando di sbagliare il meno possibile perché rispetto ad altre società non ci possiamo permettere il lusso di sbagliare perché se sbagliamo 3-4 giocatori siamo morti però non faremo follia perché questa società è una delle poche in Italia che paga in maniera puntuale il 22 di ogni mese noi percepiamo lo stipendio quando il Presidente ha promesso un premio è venuto negli spogliatori il giorno prima e non il giorno dopo a consegnare bei soldi nessun giocatore o tesserato dell'Arezzo si può lamentare di nulla e noi vogliamo che questo rimanca negli anni io dissi sei mesi fa i punti che farà l'Arezzo non glieli toglierà nessuno non ci sarà nessun tribunale che potrà togliere il nostro sudore che abbiamo conquistato sul campo e questo sarà la mia intenzione anche negli anni che avrò il piacere e l'onore di guidare questa squadra non aveva il discorso era proprio questo relativo al problema che qualcuno può cavalcare il discorso se li è B se li è B perché io sono dell'idea che il prossimo anno almeno per come la pensi io poi mi posso sbagliare che il prossimo anno dovesse arrivare e mi auguro con tutto cuore un Arezzo che arriva nei playoff per me sarebbe già aver superato abbondantemente quello che sarebbe un obiettivo secondo me sarebbe già aver fatto un salto di qualità in più maggiore soprattutto considerando che dal prossimo anno ci sarà un settore giovanile dicevo solo questo secondo me è stato solo un errore il fatto di aver voluto puntare troppo su questa serie B serie B serie B secondo me il prossimo anno già dovesse arrivare i playoff sarebbe un traguardo una soddisfazione maggiore rispetto a quella di quest'anno insomma solo questa era solo senza ombra di dubbio è normale che il presidente in questo momento è un grande uomo trasportato dall'entusiasmo e dell'amore che finalmente il popolo amarando nutre verso la sua persona vorrebbe dar tutto il presidente vorrebbe andare in Europa lì che non in B però bisogna stare tranquilli calmi senza creare aspettative nella gente e poi magari tutto questo che abbiamo fatto quest'anno va a finire che l'anno prossimo magari ci fischiano voglio dire noi dobbiamo programmare con estrema tranquillità è un programma biennale dove sicuramente cercheremo di far sì che il sogno del presidente sia vero sarà una squadra magari in cui si potrà creare in questo progetto biennale uno statura non una squadra una tantum come è stato quest'anno quest'anno si potrà programmare si potranno fare dei contratti pluriennali e poi magari l'anno prossimo migliorarla e tentare sulle strutture dicevi prima che oggi non ci sono strutture non abbiamo nulla c'è stata qualche novità negli ultimi giorni no no noi al momento di certo abbiamo Castiglion Fiorentino questa è l'unica struttura al momento che di sicuro abbiamo fatta a spese esclusivamente dell'Arezzo Calcio speriamo che chi avrà l'onore e l'onere di governare questa città tra le più belle d'Italia avrà sarà tifoso dell'Arezzo avrà Arezzo Calcistica nel cuore e ci darà la possibilità di portare avanti il nostro progetto ecco per i giovanili hai detto nell'ultima conferenza stampa prima di quest'ultima partita che ci sarà Sussi allenatore che sarà confermato quante squadre verranno allestite quelle che diciamo richieste per fare il campionato o saranno di più noi se ci danno la possibilità di usufruire di spazi vogliamo fare la scuola calcio gli esordieri vogliamo fare tutto noi abbiamo fatto delle iniziative bellissime non ultima quella di portare addirittura i bambini delle materne delle scuole materne a giocare in mezzo a noi quindi queste sono cose e scene molto belle e quindi vogliamo fare un settore giovanile importante iniziando dai primi calci dai pulcini faremo sicuramente l'attività agonistica che sono i giovanissimi nazionali gli allievi nazionali e la Beretti queste sono le tre categorie che sicuramente faremo io non ho memoria che la Chiesa che fa la scuola che la Chiesa ha sempre fatto diciamo almeno negli ultimi anni anche con Bancini ha sempre fatto l'ultima volta era la stagione 1997-98 che c'era la scuola calcio pensa tu l'ultima volta speriamo di iniziare già adesso con la scuola calcio quando Pupini passano abbiamo vinto un campionato giovanissimo mi sembra sì però non c'era la scuola calcio erano squadre per i campionati quelle che dovevi fare per forza la scuola calcio va assolutamente fatta anche perché a Rezzo tutti quelli che sono venuti qui hanno detto no Rezzo può diventare una nuova Empoli perché ci sono tutte le caratteristiche per farlo però nessuno l'ha mai fatto noi non abbiamo fatto mai chiacchiere noi ci siamo presi anche delle no a volte siamo stati anche sbeffeggiati io ricordo quando si diceva ma come fa da solo con quattro bambini a fare un campionato bambini intendo i collaboratori dell'ufficio no ma come si fa noi abbiamo lavorato notte e giorno e già sono tre mesi che programmiamo la stagione prossima sia per quando concede la prima squadra e sono un mese che lavoriamo intensamente sul settore giovanile quindi noi io penso che nel calcio di conseguenza soprattutto nella vita le chiacchiere poi finiscono diventa tutta via fritta noi lavoriamo per costruire un progetto calcistico importante e degno di questa città Francesco una domanda anzi sui gironi tornando sui gironi gironi nord e gironi centro più agonismo più calcio per le sue caratteristiche mister nel senso lasciando stare girone A e B i derby non in derby però per le sue caratteristiche preferirebbe un campionato dove come quest'anno anche continuare a fare calcio o invece con grande onestà con grande schiettezza per come sono fatto io per come vivo queste immagini dove mi commuovo preferisco fare Siena-Arezzo e vincere a Siena o Pisa Pisa-Arezzo ma voglio dire vincere un derby perché sono sono un passionale e faccio felice una città intera e non vincere a Renate o a Novara con grande onestà poi quello che ci tocca lo faremo se non sbaglio questo discorso ci lo siamo fatti insieme quando è venuto a parlare di fair play all'Assemblea dell'Istituto dei Liceo Scientifici di Liceo Classico ecco una cosa che mi incuriosisce il la gestione delle energie perché nel giro del centro ci saranno tantissimi i derby quindi c'è anche un aspetto mentale non solo fisico tecnico tattico molto importante ecco questo secondo lei può aiutare a livello di concentrazione può togliere l'energia della squadra invece magari per raggiungere determinati obiettivi noi intanto nel progetto di crescita proprio oggi abbiamo ufficializzato il nostro nutrizionista per la stagione ad venire quindi voglio dire noi non lasciamo nulla al caso quindi anche le energie è una gran bella domanda le energie nervose sono fondamentali dove noi già quest'anno abbiamo lavorato senza avere un psicologo ma abbiamo lavorato noi con collaboratori miei molto bravi nella fase di motivazioni è normale affrontare un girone dove ci sono tanti derby dove le partite sono più sentite dal lunedì fino alla domenica perché è normale che giocare sia in Arezzo o Arezzo sia in di verso di giocare già nel minio Arezzo su questo non c'è un bra di dubbio dove il dispendio di energie è nella fase di attesa per usare una terminologia leopardiana perché poi nella vita l'attesa è la cosa più bella perché poi la gioia non si concretizza o meglio la gioia è soltanto un passaggio invece l'attesa e la sofferenza è quello che ti resta di più è normale le energie nervose sono notevolmente superiori nel girone B che nel girone A su questo non c'è un bra di dubbio stefano è logico che sia così ma alla fine quello che conta credo che siano ripeto torno a ragionare la programmazione e tutto perché poi sai anche il discorso dei derby chiaro che sarebbe sicuramente molto più bello però poi è una spada di Damocle nel senso che bisogna poi anche essere tra virgolette competitivi specialmente quando perdi che tu perdi con Gianerminio o col Siena è la stessa cosa però magari fa un pochino più male col Siena però io torno lì da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo torno a ribattere il discorso del settore giovanile perché quella famosa cultura calcistica che manca ad Arezzo probabilmente perché ad Arezzo è mancata la Serie A parliamoci chiari cioè il vero il vero imprinting al tifoso glielo dà la Serie A non a caso se tu vai in una piazza che sono anni che non fa la Serie A Pisa difficilmente trovi comunque un tifoso del Pisa che ti dice che è tifoso dell'Inter della Juve ora è passato tanto tempo però farò un esempio per dire la Serie A è importante però sicuramente il settore giovanile può creare cultura perché il settore giovanile vuol dire avvicinare tanti ragazzi ed è chiaro che se l'Arezzo ora non so se ce la farà quest'anno con i primi calci perché lì diventa un lavoro veramente enorme ma se non è questo è il prossimo anno vuol dire coinvolgere centinaia di ragazzi con essi i genitori creare poi un piano un piano per le famiglie per gli abbonati vuol dire far masticare Arezzo tutta la settimana perché chi è che anche al genitore apparentemente disinteressato lo può riportare vicino all'Arezzo Capuano certamente risultati certamente ma un figlio soprattutto quindi è chiaro che è fondamentale questo ecco perché io ribatto quindi io credo che la società in questo modo che ha le idee molto chiare ma perché ha le idee chiare il suo allenatore questo Presidente ha un grande pregio li posso riconoscere rispetto ai Presidenti passati con i quali ho guerreggiato a differenza di altri hai letto nel suo allenatore l'uomo di riferimento fondamentale sicuramente addossando l'insacco di responsabilità ma lui gli fanno piacere perché probabilmente senza questa fase adrenalinica come dice lui e senza il lavoro al limite dello strapazzo non sarebbe quello che è però è questo è vero in passato abbiamo avuto un Presidente diciamo Mancini che qualunque allenatore faceva bene lo mandava via quindi insomma noi si è vissuto una fase drammatica che con Mancini oggi sarebbe stato esonerato questo il pregio ce l'ha detto questo io credo che la società debba fare siccome le idee chiare sono convinto che ce l'hanno sulla programmazione deve fare secondo me non certamente ora ma tra qualche giorno anche per sensibilizzare la città una conferenza stampa con il Presidente con Capuano con De Martino il Vicepresidente insomma poi gli addetti lavori dove vorrà visto che si è ricreato questo rapporto vorrà in maniera molto onesta esternare alla città quelli che sono i suoi programmi che poi in parte sono stati già detti e lì poi però si pesa anche e ritorna a ribattere il tasto e palpabilmente quanto la città poi sposerà questi progetti e aiuterà a fare in modo che questi progetti si concretizzino perché è importantissimo questo fatto ripeto non c'è un magnate che prende anche perché se c'è un magnate non prende l'Arezzo ma va a prendere il Siti va a prendere l'Arsenal c'è una persona che sicuramente è venuta ad Arezzo non gliel'ha ordinato il dottore ma c'è venuta non credo che le alternative a Arezzo ce ne abbia molte quindi credo che a questo punto dobbiamo tutti fare quadrato poi cammino facendo se sbaglia una partita Capuano rimanendo i rapporti di grande amicizia verrà detto e si discuterà sulla partita Capuano ti potrà dire giusto cammino facendo se ci sarà una critica da nuovo dal Presidente verrà mossa ma se tutto viene fatto con l'obiettivo di costruire senza etrologia credo che potremmo veramente arrivare a fare un qualcosa di positivo per la prima volta Arezzo ci vediamo tra un po' eccoci tornati Roberto a proposito delle idee di possibili derby toscani che chiaramente vedono nel pubblico una cornice fondamentale si potrà risolvere questo fatto della l'abbiamo parlato anche l'altra volta della tessera sì questo purtroppo sarà un problema che se il prossimo anno saremo nel giorno dei B andrà affrontato perché bisogna cercare il sistema il modo per poter ovviare a questa benedetta tessera del tifoso perché i gruppi hanno deciso di non sottoscriverla non credo che la sottoscriveranno neanche il prossimo anno ci sono delle possibilità e io credo che magari questo ne parleremo anche con la società vediamo un po' di creare quei presupposti che sono difficili non vogliamo qui illudere nessuno però insomma ci possiamo provare insomma c'è la figura dello slow che può cercare quello slow della squadra con cui si gioca di far sì che la partita sia aperta a tutti senza la tessera del tifoso c'è la possibilità del trust quindi vediamo un po' c'è da lavorarci quindi credo che se saremo nel girone B come credo che insomma avverrà bisognerà bisognerà insomma vedere un po' di agevolare e portare più a retini possibili in trasferta perché poi insomma è importante avere anche un seguito che ne pensi di questa storia della tessera del tifoso io rispetto tutte le idee però sicuramente è una mentalità non soltanto di Arezzo è una mentalità dell'ultras in generale ognuno ha le proprie idee e le idee vanno rispettate a me farebbe piacere che la gente seguisse la mia squadra su questo non c'è ombra di dubbio anche perché quando l'hanno fatto non in maniera massiccia noi abbiamo giocato sempre in casa io mi ricordo a Bolzano alle 11 la mattina anche quando arrivamo col Pullman arrivamo mi sembra che erano le 9 9 e un quarto vedere tanta gente che ti osannava era una bella una bella cosa da vedere come mi ricordo a Bassano insomma se l'Arettino gli dessero la possibilità di venire fuori casa penso che non saremmo mai soli e quindi l'Arettino manda un nome in trasferta insomma ma poi noi siamo strani in casa per assurdo però quelli che sono in casa vanno anche in trasferta quindi diventa un popolo che è in trasferta a livello del SLC uno che si muove più perché l'Arezzo di media ti porta 500 persone di media ti porta 500 diffusi quindi questo si questo assolutamente telefonino è l'uomo che finisce una pila l'uomo che finisce una pila di media ogni ora spendo il più gettonato lasciato aperto la linea rossa hai citato prima il presidente loro hanno citato Stefano un'altra figura che l'anno scorso era stata criticata che è il vicepresidente no a grandi volevo chiederti che vuole ho avuto è colui il quale diciamo gestisce l'Arezzo ecco perché il presidente è una figura diciamo che segue quotidianamente cioè lui segue l'Arezzo 24 anni quattro ore al giorno De Martino è l'uomo vicino alla squadra vicino ai problemi diciamo il braccio armato del presidente io l'ho detto anche nell'immediatezza della gara post-Alessandria lui ha dai meriti grandissimi un po' distrattato un po' visto male però è uno che fa sacrifici notivolissimi per la reazione questo è la parola di Capuano cioè lui è sempre presente anche oggi era qui in prima persona è sempre disponibile a qualsiasi situazione quindi è molto importante per la reazione e poi è una persona di cui il dirigente si fide a scegliamento ritorniamo da Matteo un altro giro se ne è parlato tanto il fatto che comunque non so se le era mai capitato ad avere il figlio di un dirigente nello spogliatoio lei comunque l'ha sempre difesa a spada tratta e poi comunque sia De Martino quando è stato chiamato un causa a Pordenone assolutamente ha fatto il suo compito intanto io sono una persona meritocratica dove ho messo sotto questo aspetto sono inattaccabili sotto tutti i punti di vista perché io ritengo che un allenatore o qualsiasi uomo che gestisce delle risorse umane debba avere l'aspetto della meritocrazia più alta io ho difeso lui come ho difeso tutti i miei giocatori io quando ho da dire una cosa ad un giocatore io lo spogliatoio e glielo dico senza problemi però fuori per essere totem devi esaltare e difendere il tuo gruppo questo giocatore onestamente sembrava come se fosse un capace un impedito è stato largamente infortunato ma mi sembra che quelle volte che è andato in campo ha dimostrato che tranquillamente può giocare a calcio anche a Como prima che gli si facesse male è stato uno dei migliori a Pordenone ha fatto la sua onesta partita è un ragazzo educatissimo e vuol dire che non ha mai creato un problema io non ho mai visto come il futuro non l'ho visto con il giocatore a disposizione di calcio facciamo l'ultima pausa andiamo insieme allora ritorniamo Francesco Carimani sul girone sul girone B stavo molto attento quando parlava quando parlava Roberto quest'anno c'è stata una bellissima iniziativa se non sbaglio quando è venuta l'Alessandro all'Arezzo con gli stand gastronomici io so che parlo sempre di cose un pochino complicate da questo punto di vista nel rapporto anzi nei rapporti tra le tifoserie io non so se ci potrebbe essere però la possibilità di come dire di instaurare il derby è il derby quindi si va sugli spalti si guarda e ci si sfotte fuori da questo magari mi piacerebbe vedere siamo nel 2015 ragazzi siamo nel 1975 nel 1960 insomma non lo so a me piacerebbe forse perché è un argomento che affronto spesso però vedere un atteggiamento diverso oltretutto Urgoi di Amalanto insomma fa parte di un gruppo di tifoserie importante che a sua volta in Italia fa parte poi di SD che è un che è un gruppo europeo che non solo si batte perché le società siano in mano e trassa di tifosi anche credo per un certo tipo di rapporto tra tifosi quindi volevo sentire in questo caso sia il pensiero di Roberto che il pensiero del distra se possibile si è chiaro che ci sono dei derby assolutamente sentiti a livello sportivo a livello chiaramente di campanile però credo che poi si possa anche tutto ricondurre a quello che è cioè una partita di calcio a sport e per cui sinceramente il prossimo anno è chiaro si può si può provare anche a fare qualche iniziativa di questo di questo genere bisogna vedere chiaramente come viene ricepita perché insomma forse ancora sotto questo aspetto siamo ancora un po' indietro in Italia il messaggio deve partire dall'alto purtroppo per cui gli stereotipi che ci sono nel calcio italiano impongono una riflessione diversa io ritengo che ci sono alcuni derby che sia letteralmente impossibile sarebbe bello perché secondo me la partita ecco anche l'agonismo più esasperato però quello diciamo che non va oltre che non sfocia nella violenza è bello lo sfottò però ci sono alcuni derby che penso che sia molto molto difficile penso a Rezzo Pisa di poter organizzare niente sarebbe molto bello dal punto di vista prettamente tecnico-tattico vedere Morgia Capuano nello stesso campo con due squadre che si affrontano io penso che Morgia non è una razza addirittura non penso quindi Morgia Capuano non ci ripeto Capuano sicura la rezzo Morgia non penso comunque vabbè avevi detto che in quest'ultima partita avessi valutato anche le rosti come portiere se può essere un portiere su cui puntare o no? beh io penso che le due partite non fanno testo lo dovessi giudicare ieri io dico di noto senza ombra di dubbio però l'ho visto noi abbiamo un grosso preparatore di portiere una persona intanto di grande professionalità me ne ha parlato molto bene io l'ho visto tutti gli allenamenti un ragazzo serio sicuramente un buon portiere ieri magari poteva fare sicuramente meglio però non si può giudicare un portiere perché a Novara ha fatto bene il ragazzo ieri però era una partita un po' particolare ritengo che giudicare un giocatore in una o due partite sia quando meno generoso noi l'abbiamo visto contro quando giudicare un seredì lui era il portiere del Bastia del Brindisi no 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 ma anche lui è stato sicuramente a Brindisi ma è stato anche sinceramente io purtroppo io l'ho rimosso ancora mi ci vuole la serie B per rimuovere del tutto no ma è una battuta questa andiamoci piano siamo già comunque avete visto quest'anno vedo che si è avuto anche quest'anno un po' di nomi strani Gian Erminio Renati ma è avuto Novara ha avuto come effettivamente la prima trasferta che è nata sembrava ancora essere sì però è tanta roba è un altro caso quello è l'inferno questo ma l'assurdo è io credo che poi alla fine Ezio nel suo spingere il ripescaggio abbia fatto non abbia poi giocato non abbia bleffato senza sapere che carta aveva in mano perché è un uomo espertissimo di questa categoria io sono convinto che nonostante le difficoltà per la sua collocazione professionale avrebbe trovato molte più difficoltà in quarta serie è un mondo che conosce sicuramente molto meno rispetto a questo questo è un mondo che lui conosce perfettamente quindi tant'è vero che ci ha messo una settimana a ereditare una truppa e portarla in campo e ditemi voi quando siamo andati a vedere la prima del campionato se quella non sembrava una squadra che aveva fatto la preparazione noi ci siamo arrivati ma al di là del risultato 1 a 1 che è stato un grande risultato ma quella squadra no ma quella squadra a parte di una scoppiata no ma a parte questo Fabio aveva un progetto di gioco era 48 ore che si era trovato se non è che sono state non è stata già nella prima partita non è stata l'esaltazione dell'individualità ma c'è stato un progetto di gioco dopo 48 ore non so se lui si andava a giocare in quella che turismo tipo Casa Castalda o a Sansepolcro sicuramente avrebbe avuto molto più difficoltà avevo disconoscenza della categoria qui ho molta più conoscenza è veramente una serie la serie di io ho totale conoscenza io avevo totale disconoscenza grazie a Dio purtroppo la Ghezzo era quasi l'unica tra le nobili decadute che non riusciva a vincere sul campo perché anche il Siena al primo colpo è tornato a fine ma ora che vince sul campo non è mai facile arrivare primi non è mai facile poi veramente il campionato di Sardì è difficilissimo penso sia il campionato più difficile perché ne vince una sola ha fatto tre a tre col Gavorrano ha dovuto rimandare che è successo con Bagusso? no nulla nulla nel senso si attendeva come protagonista allora io voglio chiarire anche questo concetto io sono andato la sera di Arezzo Renati in Tuta a Milano mi ricordo bene Cerdullo portava la macchina e io in Tuta mi sono cambiato all'hotel dove c'era il calcio mertecato a Milano e sono andato per prendere il centro campista il centro campista tanto possiamo parlare io sono una persona schietta sincera quindi dico io dovevo chiudere Feola del Trapani giocatore strutturato quindi ve lo dico magari da me sicuramente è difficile che esce un nome no? ok io ho preso tre giocatori non lo sa nessuno probabilmente domani annunciamo il primo però non l'ha mai saputo nessuno perché io ai miei collaboratori non glielo dico ma a quei pochi che glielo dico dico vi prendete la responsabilità se si sa sei stato tu quindi non parla nessuno quindi io avevo preso Feola un giocatore molto importante strutturato del Trapani arrivo e l'allora allenatore Boscaglia dice che Feola è incedibile vado su Zampa di proprietà della Lazio sempre del Trapani bene alle due mi salta Zamba allora a quel punto sono andato su altri centrocampissi avevo trattato Gennaro Esposito siccome era del Venezia c'erano difficoltà col Verona quindi una serie di problematiche all'ultimo momento dico io devo prendere dall'olio devo fare una scelta proprio aziendalistica un giocatore che l'anno prima mi ha fatto 34 partite in B fuori rosa in quel casino di Reggio Calabria aspetto gli ultimi 20 minuti 30 minuti perché solo a quel punto lo posso vedere e avevamo fatto un capolavoro lì c'è saltato per due minuti a quel punto non ho più centrocampisti giocando con tre centrocampisti io avevo cinque centrocampisti di cui se vi ricordate Cucciniello gli facevo fare l'esterno perché poi ero rimasto con tre esterni vero? andato via Millesi io avevo Sabatino Bruma e Franchino è normale che dovevo prendere uno svincolato Barusso pensavo che magari allenandosi con continuità poteva migliorare la condizione organica muscolare invece più lo allenavo e più magari andava in sofferenza siccome io non sono masochista quindi non è che per difendere una mia scelta lo mettevo in campo non l'ho mai messo in campo questa è la storia vera questa è la storia vera insomma assolutamente come Erpen che ha dato un grande contributo all'inizio poi si è infortunato nel finale una trasmissione è un uno contro tutto uno contro tutto perché tutte le domande ma rispondo con talmente tranquillità perché sono un uomo vero che è stato che facciamo per Erpen Erpen è stato il giocatore nella prima parte il giocatore più importante io mi ricordo che molte volte noi ci rifugiavamo su Erpen per nascondere la palla all'avversario uno dei giocatori di più alta professionalità che io ho mai allenato nella mia carriera ha dato un contributo notevolissimo nel momento in cui lui si è fatto male si spenda una delle poche luci di qualità che avevamo perché la nostra è una squadra e lo dico con orgoglio di carpentieri usavo dire io nello spogliatoio quindi una squadra tutta di quantità qualità quasi zero dettori Erpen poi adesso insomma fatica carcione quanto stava bene magari visione periferica cambio di gioco quando si è fatto male Erpen io per non cambiare sistema di gioco perché io avevo fatto stavo facendo insieme con i miei ragazzi un miracolo con quella struttura mi sono inventato Essien e gli siamo stati bravi Essien l'abbiamo incastrato nella posizione di Erpen questo ragazzo che aveva giocato pochissimo in Italia ha fatto molto bene quindi Erpen è un giocatore a cui io debbo molto e ha fatto un grosso campionato fino a quando non si è fatto male poi è normale che ha avuto qualche difficoltà e chi marrà? ma in una fase di valutazione come tutti gli altri Erpen è un giocatore che ha fatto bene valuteremo sicuramente è un giocatore che ha dato tanto all'Arezzo se ci saranno i presupposti perché poi dipende anche da Erpen o da chi noi chiederemo di rimanere c'è sempre una domanda è un'offerta c'è sempre in due non è che noi decidiamo questi sono giocatori di grande qualità di spessore quindi non è che sono dei ragazzini e gli diciamo tu resti e noi io resto c'è una contrattazione sono importanti mi permette si sono rivalutati tutti da un punto di vista calcio quindi può essere che abbiano anche delle richieste come ci diceva la gente di Panariello che avevamo al telefono la settimana scorsa ci diceva proprio la gente di Panariello fa bene il suo messiere voglio dire io dico che Panariello ha fatto un campionato meraviglioso ma deve moltissimo all'Arezzo quindi se il suo procuratore in questo momento c'ha il Real Madrid o c'ha il City non vedo perché chiama o aspetta l'Arezzo con grande c'è subito se io sono in scadenza di contratto non dico che un mio assistito lo vuole altrimenti non sono credibile ma fa per rilanciare un po' ma rilanciare con noi a 50 anni ha detto che il City ci vuole dare ghiagliature e con guaglia io penso che che rilanciare con noi è difficile che siamo gente scafate di marciapiere è molto difficile ecco un altro Dettori è un altro che ha fatto molto bene vabbè iniziamoli tutti si va Dettori è un altro giocatore che ha dato tantissimo un giocatore di qualità un giocatore che io ho apprezzato tantissimo sotto l'aspetto professionale penso che ogni allenatore vorrebbe tenere un giocatore di tale spessore tecnico e di grande professionale le mie ultime due domande una è se hai detto che ci sarebbero stati i rapporti con la Fiorentina no? legati anche a qualche possibile giovane a parte l'amichevole insomma a Fiorentina noi abbiamo grandi rapporti faremo anche una sorta di collaborazione per quando congiungono il settore giovanile solo con la Fiorentina o anche con altre squadre di A? per il settore giovanile solo con la Fiorentina per giocatori anche con altre squadre di A prenderemo il meglio che noi riteniamo dalla Fiorentina di prospetto e quindi interessante per la prima squadra faremo sicuramente un'amichevole speriamo di fare la prima gara ufficiale quindi abbiamo grandi rapporti con la Fiorentina l'altra? qual è il più bel complimento ricevuto da fuori a Ghezzo magari da chi ti conosce da tanto tempo e ti ha seguito da lontano c'è stata una frase un complimento che ti ha fatto particolarmente piacere? ne ho avuti tanti sì ne ho avuti tanti molto belli ed è una persona che io stimo molto che sono molto legato mi ha detto hai fatto un miracolo quindi in italiano significa hai fatto un altro miracolo questo è stato il complimento da una persona a cui sono molto legato io credo che lui quest'anno si sia reso conto di una cosa che probabilmente ha perso qualche anno forse si allontanava più dal suo mondo perché lui venendo via diciamo da zone più vicine anche alla sua ovviamente aveva un coinvolgimento emotivo anche diverso non che lui si sia snaturato perché è rimasto l'uomo che è l'uomo che fa le corse in curva l'uomo che si fa portavvia con l'ambulanza perché ha il cuore che gli fa pulsazioni come neanche un ratto che corre nelle fogne voi sapete che i ratti sono quelli che hanno il cuore più veloce di tutti però si è un pochino tolto magari una certa corte qua su si è fatto e probabilmente lui ha trovato con una piazza che era a 450 km a casa sua una situazione particolare e forse ha scoperto anche lui stesso dei lati suoi che nonostante sono 30 anni che allena forse non conosceva quindi credo che non sia però se io sono convinto che forse lo dirà a telecamere spente che probabilmente se avesse iniziato qualche anno prima chissà in che senso? nel senso che poteva fare sicuramente poteva sicuramente non è che vedo fenomeni in giro in serie no anche perché un po' sono del vecchio a lui una settimana più di me appunto però dico 30 anni galleni probabilmente poteva aver già toccato un calcio che gli competeva che meritava anche prima forse nessuno ci crede ma io in questo momento non vedo oltre che Arezzo io mi auguro di concludere la carriera di Arezzo di allenatore e poi di continuarla come dirigente vi do la mia parola d'onore anche perché non ho grandi aspirazioni ce l'auguriamo se rimani vuol dire che va increscente comunque a me ha colpito perché come tutti gli altri io ti conoscevo solo quando ti abbiamo trovato da avversario in quelle occasioni quindi a me ha colpito molto la sua parte della lettura della partita che credo sia forse la sua dote migliore oltre che la gestione insomma la trasmissione del carriera ma poi la grande competenza è preparazione tecnica basta sentirlo parlare o vedere un allenamento quindi basta andare ad allenare quindi questa coltre che effettivamente ha ragione Stefano che è stata anche un modo questa esperienza di Arezzo per poi far vedere alla gente chi è veramente capoano io voglio dire anche la mia carriera intanto sono orgoglioso fiero di essere me stesso e non mi cambio voglio dire ovunque sono stato ho dimostrato sempre il mio valore soprattutto i sentimenti e l'aspetto di grande professionalità probabilmente il mio modo di essere e il mio modo di combattere le infantezze del calcio vi dico una cosa di combattere le infantezze le schifezze del calcio c'è stato a Cassellamare dove il questore ordinò la scorta a Capuano dopo un ternano a US Sabia con rete di Baclet che voi conoscete bene al 93 siccome è un mondo molto strano ha limitato la mia carriera ma io i sentimenti miei la dignità e io dico sempre ai giocatori attenzione io sono garante della coppia che fa l'amore in macchina la sera e non va all'albergo e al ristorante per risparmiare i soldi per venire a vedere l'Arezzo o venire a vedere la Triestina la squadra che io alleno e del genitore che guadagna 1100 euro al mese che la sera rinuncia ad una pizza per andare a vedere la squadra e per vivere il risultato della propria squadra un'intera settimana signori queste sono responsabilità illimitate che un allenatore non si può fermare a fare l'allenamento sul campo ecco la mia corsa che a volte qualcuno ha visto come posso usare un termine una pagliacciata quello è il sentimento più alto è l'esternazione di un qualcosa che non si può nemmeno descrivere è il coinvolgimento più alto di un sentimento che non te ne accorgi nemmeno e io questo l'ho vissuto e lo vivo e lo auguro a tanti miei colleghi o chi ama lo sport vero a prescindere se possa essere la palla a canestro a prescindere se possa essere il tennis o il calcio di vivere le emozioni che Capuano vive facendo questo mestiere allora in conclusione Francesco Carimani ci ha portato la nuova edizione di AISEL la verità di una strage annunciata un libro che è stato un po' diciamo aggiornato rispetto alla precedente edizione no? beh sì aggiornato per il frentennale oltretutto oggi è un anno preciso che è morto Tello Laurentini sono stato oggi al cimitero ho bisogno di rivederlo ho bisogno di vedere il suo sorriso che c'è lì hanno messo una foto bellissima e anche Roberto nell'avvicinarsi al trentennale non è semplice perché è una memoria purtroppo quella della AISEL tutt'oggi misconosciuta calpestata e portare avanti le verità storico-processuali è sempre complicato c'è ancora chi non le vuole riconoscere e chi non vuole ricordare allora il libro è aggiornato perché mi ricollego un po' quello che ha detto mister Capuano ognuno nella sua professione ha una dignità una coscienza io sarò sempre qui quest'anno è il trentennale quindi è chiaro che ci sarà più attenzione però l'AISEL non è la festa della donna quindi c'è il trentadue quindi finché io sarò vivo e avrò fiato per raccontare quello che è successo grazie ovviamente a Otello Laurentini perché si è fatto il libro e grazie a Otello che mi ha dato il materiale che mi ha dato la sua fiducia poi per scrivere un libro così importante io sono sempre qui per ricordare quello che è successo perché è successo e chi sono chi sono i responsabili mi dispiace dirlo anche per ricordare chi in tutti questi anni ha sempre cercato di cancellare di dimenticare questa memoria faccio questo inciso siamo al trentennale e uno si aspetterebbe che una società importante internazionale come la Juventus avesse organizzato chissà che per l'associazione dei familiari delle vittime ecco siamo alla messa come nel 2010 c'è stata la prima messa dopo 25 anni di vuoto adesso dopo 5 anni siamo ancora una volta alla messa e basta le messe io credo che tutti i familiari delle vittime tutti i mesi tutti gli anni per i propri cari sicuramente ce l'hanno forse dalla Juventus e lo dico da Juventino laico e non credente oramai ho cognato questo termine da Juventino laico però credo che da una società importante come la Juventus ci si aspetterebbe qualcosa di più importante e provo tantissime invidia lo dico veramente per i tifosi del Torino che ogni anno salgono in migliaia superga per ricordare i loro eroi qualcuno potrebbe dire perché me l'hanno anche detto a me ultimamente anche delle offese abbastanza pesanti però mi hanno detto non sono eroi beh Roberto Lorentini che è un nostro concittadino era un medico ed è morto tentando di salvare un connazionale medaglia d'argento per questo albaro civile quindi insomma poi decidono gli altri probabilmente chi sono o non sono gli eroi ecco ecco perché credo che sia importante ti ringrazio tantissimo in questa giornata veramente particolare un anno dalla morte di Otello di ricordare l'Aisel e andiamo verso il trentennale Bradipo Libri a Iser la verità di una strage annunciata salutiamo anche con affetto il collega Andrea Lorentini Matteo invece c'è un appuntamento del calcio direttanti sì giovedì alla Bastanzetti però l'altro sempre l'occasione sarà presente Andrea ma sarà presente appunto Andrea Lorentini perché la federazione ha chiesto di premiare un dirigente e il premio è stato entrato a Otello perché oltre a essere stato presidente dell'associazione familiare vittime di Iser è stata comunque una figura storica importantissima per la FICC per la delegazione FICC-Aretia Gran Galà del calcio di lettanti io ringrazio Mister Ghezzolino Capuano che sarà un'estate di lavoro penso sì questo sicuramente c'è un lavoro estenuante un lavoro che lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare e lo faremo con grande abnegazione con grande applicazione con grande professionalità e con grande spinta emotiva grazie per le emozioni che ci avete dato grazie a Roberto Cucciniello grazie a Francesco Carimani a Stefano Brandini Dini e ovviamente ci rivedremo col campionato quando vi comincerà buona serata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori